Nicola Crisano per te ci potrebbe essere ancora la Lega Pro, mi sembra che il Messina da poco ripescato, da qualche ora, abbia puntato su di te. Beh niente, c'è stato un contatto sicuramente con la società, con persone di riferimento che si stanno lavorando per il Messina Calcio. Mi è stato fatto il mio nome, mi hanno chiamato ieri sera, ho parlato con una persona che è molto vicina al club. Credo di avere un contatto in settimana con la proprietà, con il mister che è Arturo Di Napoli, è sceso già giù l'ex allenatore dell'Ischia Lello Di Napoli, mi hanno parlato molto bene, che si sta un entusiasmo, che si sta ricreando visto la Lega Pro, che poi credo che era giustissimo che il Messina facesse la Lega Pro. E niente, in settimana ci sentiamo, ciò non toglie che se dovesse nascere un progetto di Lega Pro, che a me sapete benissimo, dopo l'esperienza a Torino, dopo Miami e dopo tornare in Lega Pro, dove credo che è una categoria che mi appartiene, mi fa solo piacere. Poi ripartire da una squadra come il Messina è motivo di grande orgoglio. Se nasce una cosa, voglio precisare che non abbandonerò mai il progetto dove io ci metto anche, ci ho sempre messo la faccia che è il Procita Calcio, dove potrei sicuramente avere una persona di riferimento qua, che può lavorare e anche qualche imprenditore più piccolo che può lavorare e dare una mano a muro. E io praticamente sarei presente, diciamo, quando posso. Laddove non si concretizza la Lega Pro, sono pronto sempre mantenendo un contratto da professionista con un club di Serie A, che ancora per un anno, però vorrei fare anche un bel lavoro qui e cercare di portare in Serie D il Procita Calcio. Grazie. Grazie. Grazie.